Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi si intende, sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica. Il dottore S, un medico, uno psicoanalista, il quale ci ha spiegato i motivi per cui ha deciso di pubblicare le lunghe memorie di un suo paziente, Zeno Cosini. Il romanzo si apre quindi sotto il segno della psicoanalisi, ma al suo interno lo psicoanalista non è l'unico medico sulla scena, come ci spiega Alberto Cavaglion, specialista di Svevo. Tutta l'opera di Svevo è piena di medici, in assoluto è la figura preminente. I medici di Svevo sono diversissimi tra loro, Svevo tra l'altro li chiama in modo anche molto diverso, sono chirurghi, sono elettrofisiologi, sono flebotomi, sono docenti illustri che insegnano in prestigiose università o anonimi medici condotti, acconcia osse o praticoni, semplici praticoni di ogni sorta. La figura del medico sconfina nel praticantato, nella praticoneria e spesso i medici sveviani sono degli apprendisti stregoni. Contemporaneamente prendono piede molte terapie, che oggi chiameremmo alternative e che allora si chiamavano naturali. Si afferma l'omeopatia, nasce l'elioterapia, che sfrutta le virtù terapeutiche dell'aria aperta e della luce solare. Si sviluppano massaggi e ginnastiche di ogni genere. Si afferma l'idroterapia, che cura con applicazioni di impacchi, bagni, semicupi. E l'elettroterapia, che mira ad eliminare i disturbi attraverso la somministrazione misurata di scariche elettriche mediante apparecchi del genere rocchetto di Rumkorf, citato nella coscienza di Zeno e altre diavolerie. Ah, divino il pediluvio sinusoidale, una delle migliori invenzioni del dottore. Sentite il pizzicore della corrente Will? Lo sento, non è pericoloso. A quanto fare? Nel suo saggio Soggiorno londinese, Svevo scrive La psicanalisi Non temete che io ve ne parli troppo. Ve ne dico solo per avvertirvi che io con la psicanalisi non centro. E ve ne darò la prova. Lessi dei libri di Freud nel 1908, se non sbaglio. Ora si dice che io, Senilità e la coscienza di Zeno l'abbia scritta sotto la sua influenza. Per Senilità a me è facile di rispondere. Io pubblicai Senilità nel 1898 e da allora Freud non esisteva o in quanto esisteva si chiamava Charcot. Nonostante tutti i progressi che compie in quegli anni la medicina rimane una scienza votata al fallimento. A questo proposito Svevo scrive La medicina è certamente l'arte che conta più fiaschi. A figurarsi, ogni uomo che muore all'ultimo pensiero rivolto a lei. Che fiasco! Non è un caso, quindi, se proprio in quel clima di fiducia ancora positivistica nei progressi dell'arte, la medicina riprende ad accarezzare un antico suo sogno, mai completamente dimenticato, quello di prolungare la durata della vita dell'uomo e di ringiovanirlo. L'endocrinologo russo naturalizzato francese Sergei Voronov formula le sue teorie sulla longevità durante un viaggio in Egitto in cui osservò la realtà degli harem e la breve, infelice vita degli eunuchi. Mette quindi a punto una tecnica di ringiovanimento basata sui tre pianti di cui è tuttora riconosciuto un pioniere. All'inizio degli anni venti, nella sua villa clinica a Grimaldi, presso Ventimiglia, dotata di grandi gabbie per le sue cavie, Voronov promette ai suoi attempati pazienti una nuova giovinezza e una rinnovata vitalità dei sensi grazie all'innesto di testicoli di scimpanze. I giornali satirici e gli chansonniers di Montmartre si impadroniscono rapidamente del suo nome e della sua vicenda. Circolano salaci storielle di vegliardi in frenesia amorosa e inquietanti ipotesi horror su quanto avviene nel segreto della villa. Ma fra i profeti del ringiovanimento ricordati da Svevo c'è anche il fisiologo viennese Eugen Steinach il quale procede su strade analoghe a quelle dei suoi colleghi ma mette a punto un procedimento più semplice. In un documentario del 1923 intitolato Steinach Film il dottor Steinach illustra la sua teoria secondo cui attraverso l'interruzione di uno dei dotti spermatici il benefico influsso della secrezione ghiandolare anziché essere disperso fornirebbe energie rigeneranti all'organismo deperito dei vecchi. Innegabile l'interesse l'atteggiamento di Svevo nei confronti di tutti questi esperimenti è dunque profondamente ironico. Professor Moloni Svevo soprattutto scettico non ci crede neanche per il momento ma si diverte guardando ironicamente gli uomini che ci credono perché sono spinti soprattutto dalla paura della morta. Il dottore S anche in questo caso non è diverso dagli altri dottori Elie Mechnikov Charles-Edouard Braun-Seckert Sergei Voronov Oien Steiner sono tutte controfigure aggiornate del vecchio Mephistofele che offre a tutti la sua ricetta la stessa cura a tutti per la stessa malattia la paura della morte. Da questa cura Svevo è guarito. Io ho visto proprio ieri il rapporto del medico che ha curato Svevo all'ospedale a morta di livenza dopo l'incidente automobilistico in cui dopo del quale è morto. Il medico ha scritto che è rimasto lucido fino all'ultimo momento e sappiamo dalla sua famiglia che è morto con calma. Ha detto alla figlia non piangere non è niente morire niente con la G perché parlava dialetto non è niente morire. Poi ha chiesto una sigaretta che li hanno rifiutato peccato ha detto sarebbe stato l'ultimo e poi è morto. Si può morire con un certo senso di umorismo si vede. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.